Il piano c'era inferiore si ritorna al jazz, un nuovo e ricco calendario di concerti in programma a partire dal primo luglio. L'idea di fare un'iniziativa è importante ma soprattutto per la prima volta con un programma un po' ambizioso grazie alla struttura amministrativa, alla squadra di governo, al presidente della commissione Ferdinando Padovano, al consigliere Raffaele Salomono che si impegna tantissimo su questa struttura, l'assessore Fortino che la tiene in un contesto della cultura, allora abbiamo immaginato con la struttura amministrativa di cercare di rientrare in un circuito un po' più ambizioso, per conto meno nazionale con un direttore artistico comunque di estrazione, di origini nocerine ma che invece grazie al quale siamo riusciti a intercettare degli artisti di primo livello e quindi ci candidiamo ad entrare in un circuito più importante sperando che questo sia solo la prima tappa. Un bellissimo cartellone che nello specifico quest'oggi presentiamo torna un pochettino a quella che è l'origine, l'essenza del nostro territorio, il jazz, la cultura e l'arte. Saranno una serie di appuntamenti legati appunto alla valorizzazione del territorio. Grazie alla sinergia con straordinari e importanti artisti avremo l'occasione di far vivere il castello. Accanto a questo anche altre strutture simbolo del nostro territorio. Per ogni fascia di età riusciremo a coinvolgere dei più e meno giovani, dalle famiglie, agli appassionati. Questo è il light motif che muove secondo me il nostro territorio, generazioni a confronto, mi piace tantissimo. In questo luogo l'amministrazione è sempre più caro, possiamo dire. La nostra volontà è quella di mettere su un programma e una rassegna che possa continuare nel tempo e possa crescere nel tempo. Assieme ad essa ci saranno un insieme di altre attività che riguarderanno tutto il calendario estivo che si svolgeranno qui sul palazzo, dal teatro, i concerti, altri tipi di concerti, altra musica, generi musicali, teatro, balletto e ci sono anche delle iniziative in itinere che dobbiamo concretizzare attraverso delle proposte e delle associazioni che riguardano la partecipazione popolare ad un insieme di attività. Ma queste ancora in itinere perché devono chiudere il progetto. I concerti saranno anticipati dalle visite guidate ai luoghi di Valenza, storico architettonico della città, che ospitano la rassegna, grazie ai volontari delle associazioni culturali di Nocera Inferiore. Il castello, oltre a essere un bene comunale, quindi di proprietà comunale, io dico sempre un bene di tutti, quindi appartiene veramente indistintamente a tutti quanti, proprio per questo motivo tutti ne dobbiamo avere cure, dobbiamo avere a cuore un luogo simbolo di quella che è la cultura, la storia di un intero territorio. Ringraziamo l'amministrazione comunale per essere stati invitati e ovviamente l'associazione di Novità al Castello è a disposizione, ha piacere di collaborare.